buonasera a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi ho necessità di parlarvi della youtuber league e lo faccio con questa voce qua che sta peggiorando sempre di più però non posso assolutamente non spendere due parole per analizzare quello che è stato il nostro girone d'andata perché a differenza di quanto accaduto l'anno scorso ci sono state anche delle problematiche sono state degli alti e dei bassi diciamo così però avevo volontà di fare due parole insieme a voi non so quanto l'argomento youtuber league possa interessare a chi invece vuole sentir parlare soltanto della juve vera e propria ma so per certo che c'è anche una percentuale di persone che sono interessate a capire un po di dinamiche dietro questo evento e a me piace sempre raccontare anche qualche aneddoto e secondo me queste cose fanno fanno gruppo nel vero senso la parola tant'è che luccone campolunghi un abbraccio amico mio ha voluto questo video con tutto se stesso quindi non potevo deluderlo me l'ha chiesto due o tre volte negli ultimi giorni quindi ho detto sapete cosa facciamo adesso ci mettiamo qui e lo pubblichiamo già la sera dell'uscita del video sul canale di federico marconi se ancora non l'avete visto vi invito a andarvelo a vedere non accusatemi di spoiler ho lasciato passare assolutamente tanto tempo non ho ancora fatto i post su instagram che usciranno in contemporanea questo video su youtube l'anno scorso vi ho portato le pagelle vere e proprie ecco quest'anno volevo fare qualcosa di diverso e raccontare un pochettino quelle che sono state le sensazioni anche con ragazzi nuovi che sono arrivati nello spogliatoio e devo dire la verità insta keeper l'ho conosciuto quest'estate quando abbiamo giocato all'alliance stadium e arriva per sostituire fene che è stato il miglior portiere della competizione della precedente stagione è stato un vero fene nella nostra squadra e quindi la sfida era allettante interessante posso dire che insta keeper con questa competizione c'entra poco e niente il livello è altissimo altissimo e anche in finale credo che l'abbiamo dimostrato con delle uscite molto sicure anche su delle rimesse laterali a volte o dei cross che orbitavano intorno alla nostra area o banalmente in occasione dell'assist che ha fatto a pippega per il gol di testa del nostro numero 10 e soprattutto è un ragazzo serio è un ragazzo che sa che cos'è uno spogliatoio sa cosa vuol dire mettersi a disposizione di un gruppo ed è entrato assolutamente a piedi pari all'interno del nostro team che sarà noioso nel dirlo però ragazzi si basa tanto sullo spirito di squadra di sacrificio e nel fare quella corsa in più anche per il compagno e credo che siano cose nel calcio questi livelli soprattutto quando non è possibilità di trovarti con così tante volte per cercare far pacciare un determinato concetto è fondamentale essere umili e credo che userò la parola umiltà per tante analisi in questo video passiamo a zaki che anche lui ho imparato a conoscere quest'anno mi fa ridere un aneddoto sulla finale a un certo punto nel riscaldamento lo guardo e gli dico zaki tutto a posto perché ti vedo un po troppo quasi teso triste mi sembri fuori contesto lui mi guarda mi dice tranquillo sono solo concentrato vedrai è la fine della partita dopo una partita incredibile conclusa poi chiusa dal suo gol durante i festeggiamenti è arrivato mi ha guardato mi ha detto hai visto ero solo concentrato anche lui un giocatore veramente forte anche lui arrivava per sostituire fratino tra l'altro arrivava in realtà per sostituire j pata che doveva sostituire fratino ed è un altro di quelli che si è messo a disposizione è un altro di quelli che in questo contesto è semplicemente tanto di più rispetto al nostro livello eppure si vede che si diverte si vede che si trova bene insieme a noi e spero che la stessa cosa possa avvenire anche per per il girone di ritorno sono partito dei nuovi perché quando entra qualcuno all'interno di un gruppo che già si conosce magari fa sempre un po fatica ma devo dire la verità anche nuovi sono stati veramente perfetti e fondamentali in questo percorso c'è ron c'è ron che io conoscevo già l'anno scorso era venuto anche a vederci a milano per la partita con l'inter anche lui l'ho trovato questa è stata la partita all'alliance ron è una vera e propria leggenda nel mondo di youtube è un pezzo di storia di questa piattaforma in italia l'umiltà è il termine davvero che devo utilizzare per ron perché è un ragazzo tranquillissimo è un ragazzo che è entrato in punta di piedi e tante volte siamo stati costretti anche a cercare di trovare un incastro dal punto di vista tattico anche in finale con delle sostituzioni mi sembra mi sono sentito anche in dovere di chiedergli scusa perché comunque lui è uno che si prepara cerca sempre di arrivare pronto e lui dopo il gol del 2 a 0 che è stato sostituito arriva lì e invece di dire no perché mi avete tolto mi hanno detto grazie avete fatto bene non ne avevo più devo respirare numero uno sono quelle cose che ti fanno veramente capire che sì certo avrebbe voluto giocare ancora però accetta le decisioni sa come funzionano queste cose e quindi giocatori del genere ma soprattutto persone del genere fa la fortuna di tutte le squadre e di tutti i gruppi un abbraccio a matte poi c'è Dani che è stato convocato in emergenza no per via del mio infortunio lui ne sente molto queste cose le sente tantissimo ed era molto preoccupato dispiaciuto pensava di non aver fatto una gran prestazione lui vuole sempre dimostrare far una bella figura e allora io ti dico sciogliti tranquillizzati perché devi poi viverti questi momenti goderti questi momenti e alla fine Dani due su due due finali di giocate due finali portate a casa due finali d'andata a roma quindi direi che si è andato assolutamente bene e dai ti ho fatto sto regalo mi sono lesionato il ginocchio per per farti arrivare a roma una seconda volta e adesso in bocca al lupo perché mi sa che ne avrò ancora per un po ma il mattino la risonanza poi magari vi aggiornerò tutti quanti quindi stiamo ad entrare nel gruppo storico no pippo è uno che ormai conosco da un paio d'anni e diciamo la verità questo video nasce da un'idea che mi ha dato lui stesso perché il giorno prima della partita lui ha mandato un video sul nostro gruppo in cui spiegava a ogni persona cosa avrebbe dovuto fare il giorno dopo e quelli che secondo lui erano i punti forti da sfruttare ecco io voglio fare la stessa cosa dal punto di vista invece dell'approccio dei miei compagni di squadra di avventura pippo ha detto una cosa fondamentale in quel video ha riconosciuto i suoi limiti che non sono limiti tecnici sono limiti e basta e quando uno riconosce i suoi limiti li mette in gioco secondo me è sempre il primo passo per superarli poi pippo è uno che che devi stare per prendere pippo conferma vi sai così oppure no infatti credo che gli abbia fatto piacere quando al pomeriggio gli ho mandato un messaggio gli ho detto ti abbiamo ritagliato io il mister un ruolo perfetto per le tue potenzialità e siamo sicuri che lì riuscirei a tornare a splendere al massimo a differenza di quello che abbiamo fatto tutti con l'inter perché con l'inter tutti abbiamo messo quel qualcosa in meno e pippo era curioso e quando gli abbiamo spiegato il tutto era entusiasta lui in teoria di gol ne aveva fatti due uno gli è stato annullato e la finale ancora una volta l'abbiamo portata a casa lucone che è colpa tua se sto facendo sto video no perché magari avrei fatto qualcosa di diverso invece no l'hai voluto te lo faccio con questa voce qui quindi pensa come verrà bene però ragazzi luca è un ragazzo che magari lo vedi sui social e dici è il classico ragazzo belloccio no dei social invece luca è una persona molto profonda io credo che luca sia una persona molto emotiva ed è davvero si è inserito in punta di piedi si è sembra che che faccia parte no luca del nostro gruppo ma non nostro youtuber league il nostro gruppo tifosi juve creator così da sempre c'è luca mi sembra di conoscerlo da una vita e lo conosco da un anno invece è una bella persona è davvero una bella persona mi fa piacere essermi avvicinato così tanto a lui l'abbraccio luca spero che ti faccia piacere sta roba e dal punto di vista del campo non ne abbiamo parlato ma continua essere il capocannoniere quello che la butta dentro il numero 9 ma voglio parlare delle altre cose che siccome sono un po più importanti e credo che la partita con l'inter sia l'emblema di quello che è luca campolunghi perché per me con l'inter è stato il migliore in campo è andato oltre i suoi limiti fisici non ce la faceva più non ci riusciva più ma ha voluto lottare con tutta la squadra poi la prestazione della finale è stata una prestazione lucida una prestazione a supporto di sacrificio andava a raddoppiare veniva centrocampo non glielo ho mai visto fare e credo che questa sia l'evoluzione che passa dall'essere l'uomo copertina no il bomber il centravanti o banalmente luca campolunghi a essere uno della squadra e questa è la vittoria più grande secondo me che ci portiamo a casa perché tutti tutti si sono messi a disposizione del gruppo ed è la cosa più forte che puoi fare in una squadra a maggior ragione a questi livelli nico guarda cosa c'ho in mano braccialetto che mi hai regalato te devo ringraziarlo perché è stato il mio compagno di stanza no a roma in in questa youtuber league e questa voce che sentite ecco io subito dopo la finale sono stato male ho iniziato ad avere già un po di febbre mal di gola raffreddore non stavo per niente bene me lo sono portato a casa in questi giorni anche se nei giorni precedenti ero migliorato e nico voglio ringraziarlo per essere un ragazzo semplice uno di quelli che si mette a disposizione anche solo della persona perché quando ha visto ha notato ha capito che non stavo bene e che non me ne sarei andato da solo tanto per abbandonare è venuto lì mi ha detto sai cosa andiamo vengo con te ti faccio compagnia ed è tornato in hotel con me si è privato anche magari della compagnia di quello che poteva vivere lì insieme agli altri ragazzi del festeggiare è venuto con me mi ha accompagnato io sono andato a letto e quando mi sono svegliato alle tre di notte lui era uscito a festeggiare insieme agli altri però in quel momento lì era tornato con me e ragazzi sono quelle cose che sembrano banali ma sono quei gesti che ti fanno veramente capire quanto è profonda la persona e quindi sono veramente contento di aver approfondito ancora di più una conoscenza che abbiamo iniziato l'anno scorso e che era diventata assolutamente affine e poi la partita che ha fatto mi dimentico di questo piccolo dettaglio ma ha fatto un partitone e non hanno ancora capito che ruolo faceva secondo me quelli del milan e poi c'è fra io fra ci sentiamo spesso durante le giornate e sono contento di poter essere un po la sua chioccia l'ho preso un po sotto la mia ala perché sono convinto che fra sia da guidare no un po con il joystick ma la cosa bella di fra è che ascolta fra ascolta sempre ascolta tutto fra assorbe fra uno che si mette lì e apre le orecchie e ragazzi è una cosa rara non è una cosa da tutti non è una cosa da tutti sa i suoi limiti ma sa anche le sue potenzialità e cerca sempre di mettersi in gioco per migliorarle è una cosa che a me fa sempre molto piacere perché nelle persone oggi è difficile trovarle a maggior ragione nei ragazzi molto più giovani di me per i quali io non ho contatti no io non ho la percezione di quelle che sono le nuove generazioni e sono molto contento invece molto contento di averne conosciuti tanti più giovani di me all'interno della youtuber league e di essere diventato loro amico e fra è uno di questi molto molto felice poi c'è chino che come dicevo durante la partita chino non è un mio compagno di squadra chino un mio amico il chino abbiamo diviso tanti bei momenti insieme anche fuori dal campo da calcio ci sentiamo quotidianamente abbiamo spesso lavorato insieme abbiamo fatto delle serate è venuto a casa mia io sono andato là da lui quindi è un rapporto che non ha nemmeno senso stare qua ad approfondire lo sapete meglio di me devo ringraziarlo perché chiedermi di alzare la coppa nel finale è stata una cosa che mi è piaciuta tanto mi ha fatto piacere che probabilmente mi ha fatto ammalare perché mi sono dovuto togliere il maglione mettere la maglia per per alzarla e io ho voluto alzarla insieme a lui perché era lui il capitano quella sera adesso vi dirò una roba quando sono arrivato giù a roma avevo una cosa da dire a tutti i ragazzi ed era vi faccio una richiesta vincetela per me perché io sono sceso solo ed esclusivamente per vedere la risposta che darete stasera dopo la sconfitta brutta subita con l'inter non una risposta di campo ma una risposta di occhi ecco non ho avuto necessità di aprire bocca ho lasciato parlare luca l'allenatore ho lasciato parlare chino il capitano e sono stato zitto muto perché non c'era già più bisogno di dire niente erano già state toccate le corde giuste e credo che questa sia stata la risposta migliore del gruppo e ripeto ringrazio chino per avermi poi permesso di alzare la coppa e me l'ha fatta pure portare a casa quindi qui dietro vedete le altre due solitamente devo capire dove ficcarla questa qui perché è enorme però io gli avevo detto di portarla a casa lui mi ha detto no no viene a casa con te così te lo posso rinfacciare a vita grazie mille amico mio grazie mille e poi c'è Lello Lello ormai mio fratello siamo molto simili io e Lello su tante cose tanto siamo un po' quelli più vecchi no insieme al Pipega e a Ron del gruppo squadra ma siamo simili in generale proprio in tante cose in cui in modo in cui vediamo la vita nel cercare di non voler invecchiare anche del voler sembrare un po' sempre degli eterni ragazzini con Lello ho condiviso tanto fuori dal campo dal suo matrimonio a tante altre serate o tanti momenti tante giornate anche con lui mi sento quotidianamente quello che penso di lui lo sa è in campo da una bella mano da una bella mano perché fra tutti è l'unico che davvero sa fare il difensore perché è l'unico che è un difensore questa roba è incredibile e ci togliamo un piccolo sassolino no con Lello Chino fra nella partita con l'Inter i sei gol era colpa nostra no della difesa che ha preso troppi gol la Juve troppo scarsa si leggeva va potenziata perché così non si può fare ecco durante la partita col Milan invece nei commenti abbiamo letto che la Juve è troppo forte e che andrebbe indebolita e quindi forse semplicemente la Juve è equilibrata e ci credo un po' di più di quelle altre perché è riuscita a unire i discorsi di campo ai discorsi motivazionali e arriveremo a parlare di una persona che secondo me è molto importante perché appunto abbiamo il mister Luca il critico calcistico con Luca ci conosciamo da poco ci conosciamo da qualche mese abbiamo iniziato insieme a fare diverse collaborazioni sul web tramite Davom ci siamo conosciuti per tutti in the box da quest'estate che io e Luca ci frequentiamo ma ho trovato subito affinità ho trovato subito affinità intanto nel nome quasi nell'età lui ha qualche anno in meno di me ma soprattutto nell'amore che c'è verso questo sport io amo tantissimo il calcio lui lo ama più di me e quando ci siamo trovati e lui mi ha detto ma secondo te mister youtuber league sarebbe il sogno della mia vita e quando abbiamo saputo che poi tatino non aveva intenzione di continuare beh io ho chiamato fede gliel'ho proposto fede accettato e abbiamo messo subito Luca quando mi sono fatto male lo chiamo gli dico posso essere il tuo landucci possiamo essere allegri landucci e lui come no certo condivideremo una serata di un certo tipo e al pomeriggio prima della partita ci siamo messi lì in camera d'hotel e abbiamo cercato di davvero immedesimarci all'interno dello staff tecnico di giocare no a fargli allenatori di trovare una tattica in fase di non possesso in fase di possesso come sviluppare l'azione cosa fare in determinati momenti ed è stato divertentissimo è stato divertentissimo e ragazzi vi dico una roba Luca è entrato in punta di piedi con rispetto di quella che è la squadra lo spogliatoio è tutto però poi quando è stato il momento si è fatto sentire e io gli ho visti gli occhi ho visto che lì è cambiato tutto la figura di Luca ha cancellato completamente le scorie post inter e vi posso garantire che ci sono state delle scorie importanti dentro al nostro gruppo ce le siamo mandati a dire devo dirvi la verità ce le siamo mandati a dire ed era quella la mia paura Luca è stato bravo ad arrivare lì a toccare tasti giusti e a prendere mano una squadra composta anche da persone che non aveva mai visto se non all'interno di video così eppure ho visto gli occhi di tutti e ho visto che tutti l'hanno accettato perché sapeva che cosa stava dicendo che cosa voleva dire che cosa voleva fare io vi dico che la finale è grandissima roba di Luca grandissima roba di Luca e sfido chiunque dei ragazzi che l'hanno giocata dire il contrario perché ho visto anche che Campolunghi ai microfoni ha detto la stessa roba e mi ha fatto molto piacere perché ha riconosciuto un lavoro veramente tosto di Luca che ogni momento andava lì parlava andava a spiegare cercava di capire di comprendere di sistemare bravo bravo davvero non so che cos'altro dire bravo davvero e concludiamo con questo ragazzo qui che io ormai conosco da quasi dieci anni Fede ormai lo conosco da quasi dieci anni era un bambino la prima volta che ci siamo incontrati era il 2016 quindi fate voi i conti si dovrebbero essere otto anni e quello che ha fatto Fede in questi anni è tosto uso questa parola gliel'ho scritto anche in privato l'altro giorno deve essere fiero e orgoglioso di quello che ha creato e soprattutto del fatto che stanno migliorando sempre di più una cosa che mi piace di Fede è il fatto che si metta in gioco e che cerchi di migliorarsi non si sente mai arrivato vuole anche mettersi in dubbio è stato protagonista di un brutto episodio non l'avete visto che ha portato anche delle decisioni che ha portato anche delle nuvole se vogliamo sulla competizione ma lui è stato forte e ha deciso di fare andare avanti quello che ha creato anche a costo di rimetterci lui personalmente tra squalifica e magari anche un passo indietro dal punto di vista della conduzione è un ragazzo intelligente e non è assolutamente facile trovare un ragazzo intelligente intraprendente con così tanta voglia di fare e questo è Federico Marconi semplicemente Federico Marconi e sono contento di poter dire quello lì è amico mio ed è amico mio da tanti anni e quindi ragazzi questo è tutto quello che avevo da dirvi la coppa è arrivata sana e salva di dietro ci sono le altre due coppe quella con la Lazio quella col Napoli vinta a Scampia la dimensione è notevole è una coppa gigante non ci si può bere dentro ma qua forse si possono aprire le birre quindi la prossima volta che ci vediamo proviamo a stappare qualche birretta fatemi sapere un po le vostre considerazioni ditemi se questo video è stato di vostro gradimento anche se un po diverso dal solito e soprattutto se pensavate che potessimo vincerlo vi dico la verità secondo me eravamo più scarsi a livello tecnico rispetto al Milan che aveva dei giocatori molto molto più forti dei nostri secondo me nel complesso ma abbiamo vinto super meritatamente questa partita ciao